Un grande piano di interventi educativi e sociali per contrastare e prevenire l'abuso di droga e alcol tra giovani e giovanissimi. A lanciarlo è il comune di Pordenone affiancato da scuola e azienda sanitaria. Tra le iniziative, i laboratori teatrali musicali per le scuole, a cui parteciperanno l'artista Marco Onzovino e l'associazione Proscenium, con il finanziamento dei club Rotary Pordenone e Alto Livenza. Ma oltre a questo ci saranno tanti altri progetti di prevenzione fondati su modalità che parlano il linguaggio degli adolescenti. Accanto a un progetto lodevole per il quale ringrazio i Rotary, il comune metterà in campo risorse importanti, penso a più di 100.000 euro per quanto riguarda il bando delle politiche giovanili, che sarà dedicato proprio al tema della prevenzione delle sostanze stupefacenti. Penso al bando da 1.300.000 euro per consentire di dare assistenza, aiuto anche ad altri tipi di problematiche che riguardano i nostri ragazzi, ma soprattutto la disponibilità ricevuta ieri dall'assessore Riccardi e dall'assessore Rosoleng, che rappresentano la sanità e le politiche giovanili in regione, a finanziare, a sostenere, ad aiutare un maxi progetto, un macro intervento che il comune di Pordenone preparerà nelle prossime settimane e che poi verrà presentato ufficialmente. La diffusione di sostanze in città ha assunto dimensioni preoccupanti fin dai banchi di scuola. Sono circa 100 gli adolescenti seguiti dalle strutture sanitarie per problemi di poliabuso di sostanze. In che direzione bisogna andare per la prevenzione, visto che, lo sappiamo, i giovani iniziano sempre prima? Non è semplice, perché i sistemi classici che avevamo una volta, ovvero le lezioni didattiche, sappiamo che non funziona più. L'adolescente, in quanto tale, se uno gli dice di non fare, lui fa, perché è proprio dell'età dell'adolescenza. Quindi bisogna agire su due livelli, da una parte sugli adolescenti, aumentare le loro competenze, aumentare la loro capacità di vivere e capire le emozioni, dargli altre emozioni e altri piaceri rispetto a quelli che provano con lo sballo o con le sostanze d'abuso. Dall'altra invece agire sulle figure di riferimento, famiglie, scuola, insegnanti, allenatori di calcio. Fare a loro, spiegargli quali sono i segnali che possono far pensare alla comparsa di qualche problema legato a una qualsiasi forma di abuso. Nel frattempo, proseguono le azioni dell'azienda sanitaria. Tutte le nostre strutture che si occupano, a partire della prevenzione, delle attività intense che si fa all'interno delle scuole, la collaborazione ovviamente con il comune che esiste, non la stiamo certo inventando oggi, all'identificazione precoce di problemi, cosa che avviene sia attraverso i pediatri in alcuni casi o la neuropsichiatria infantile, il pronto soccorso dove arrivano soprattutto ragazzi che hanno bevuto molto e poi i servizi di cura vero e proprio, cioè il dipartimento delle dipendenze.